Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Crysis 3, come sempre io sono Ari e ci stavamo dirigendo nell'ultima puntata, se vi ricordate, verso la camera, diciamo, dove c'è la poltrona strana, quindi riprendiamo subito. Sì, di scoprire qualcosa, ci vediamo al punto d'incontro. Vediamo come siamo messi, va? Qui è un casino, Rush e Claire sono offline, devi agire da solo finché non capisco che sta succedendo. Prima vorrei magari ricordarmi i pulsanti, che andare in giro a casa non è che mi piaccia molto. B, N, U, E, R, T, niente, X, ah ok, eccolo qua, X. Libraggio medio. Vado per il libraggio medio. Invisibilità. Evitiamo il fascio di luce. Run like a mother fucka. Non so perché, ma sono preso bene con sta cosa, ho appena registrato metro e continuavo a ripetere run like a mother fucka, quindi... Boh. Non lo so neanche io perché. Accordamento attivo. Headshot. Double headshot. No, decisamente no. Però sempre meglio di un calcio nelle palle. Sarebbe epico. Nuovo Crysis 4. Arma definitiva. Calcio nelle palle. Muori! Del tipo che li shot in un colpo perché... Calcio nelle palle. Cioè, non so se ci capiamo. Come puoi schivare un calcio nelle palle? Ehi, c'è un tipo che mi ha visto. O almeno crede di avermi visto. In realtà non mi ha visto. Ma io ho visto lui. Boh. Eh, non credo di riuscire a... No. O perlomeno, se c'è un pulsante per abbassarsi più di così, io non lo conosco. O non me lo ricordo. Entrambi, probabilmente. Ah, aspettate. Ho sistemato il microfono. Si era spostato per cacchi suoi. Dove sei? Headshot. Quella la perdo. Palle. Nelle palle. Hanno avvistato un Iron Horse disattivato nei paraggi. Trasportano informazioni. Vogliono insabbiare i loro sporchi affari. Un Iron Horse. Se ci mettere le mani su quei dati, forse scopriamo chi mi ha torturato. Cazzo, potrebbero esserci una montagna di segreti della Selle. Che cos'è? Come ha fatto a sentirmi? Un attimo. Hanno trovato un cadavere, dai. Non ha senso che mi abbiano visto. Ho trovato uno dei Nortes. Non hai trovato nessuno. Vado a vedere. Piano piano li elimino tutti. Un altro che vuole dare un'occhiata. Ma qualcuno te l'ha chiesto, no? Seriamente? Guardi un altro. Vado a vedere. Perché? Perché? Perché vuoi andare a vedere? Vuoi morire anche tu? Io ti avrei lasciato vivere, invece. Ma visto che vuoi morire... Ma io non lo so. Uno, due, tre. Sto finendo energia. Oh, c'è un potenziamento. Devo andarla a prendere. Mi serve però l'energia. Andiamoci a prendere l'energia. C'è l'energia e il potenziamento. Non posso scendere da qua? No. Devo fare il giro. Posso scendere da qua? No. Da qua? Yes. Giù. Attorno a me non ci dovrebbe essere nessuno. Quindi dovrei poter entrare tranquillo. Buono. Potenziamento. Quanti punti ho? Quattro. Potrei prendere... Tipo questo cosa fa? Lancio più forte? Non mi serve. Poi cosa c'ho? Questo. Corazza più forte. Danno caduta. Calcio potenziato. Dirò la verità. Questa è più o meno roba che non mi serve. Due, tre. Occisioni furtive più veloci. No, grazie. Stanno inviando una scorta per quelle informazioni. Non hai molto tempo per intercettarle. Non è di vitale importanza. Ma a sapere chi mi ha torturato forse mi darebbe un po' di pace. Uh! Eh, sblocca. Sicuramente. Sai quanto cacchio è utile questo? No, aspetta. Lasciamo ricaricare. Durata occultamento più... 20%. Decisamente non è da buttare. Qual è? Ah, è quello dove vuole che vada. Va bene. No, aspetta. Ostile. Lì ci sono un po' di mine. Sinceramente me ne sbatto. Merda, l'ho sprecata. Sì, vai a controllare. Io mi piazzo dietro a questa colonna. Ok. Addio. Ho trovato uno dei nostri, ucciso da una freccia. Anche tu sei stato ucciso da una freccia. Contaci. Tanto io mi ricarico. Cerca delle pezze. Iron horse individuato. Fantastico. Cerca il file del laboratorio. No. Oh. Oh, porca. Che succede qui? Merda, mi han beccato. Ascoltate. Ascoltate. Dimmi di fai. Lo ridurranno il polvere. Scendete. Date una ripulita. Avanti. Trovatelo. Causato un arco. Vieni fuori. Affrontaci, codardo. Sì. Ma va. Stiuto. A tutte le unità. Abbiamo un istruzzo. Marguagliatevi. Aboratevi. Attravergo. Avanzati. Aboratevi. Allora. Assum. Assum. Aboratevi. Raffaratevi. Devo ritirarmi Ok, devo vedere, qua ci sono delle frecce Ce n'è una qua Una qua Due qua Una, una e due In più ce n'è qualcuna là, ma Oddio, come ho fatto a prendere anche quello? Come si faceva scaricare? V Oh beh, ha funzionato uguale Non puoi nasconderti per sempre, profet Ma fottiti Ci da la caccia Devo andare là Run like a madafaka Perché sono un rabo? Non lo so, mi sto chiedendo come mai continuo a ripetere questo Oddio, quante informazioni Andiamo di recuperarle tutte Addirittura due lì Una lì Qui munizioni, eh Un tesoro sto posto F L'ho lasciato in vita Mi ha lasciato in vita Da notare le gocce Sullo schermo Sto gioco è pazzesco Le gocce sullo schermo Cioè, sullo schermo nel senso Sul visore È incredibile Pensano veramente a tutto Quelli della Crytek Voglio tutti i miei occhi puntati sulla luce Crivellate qualunque cosa si muova Nessuna pietà Io sono fermo Uno, due, tre, quattro Un po' tanti Mettiamo di ridurli Un attimo Pinchia È finita proprio mentre gli stavo sparando Ho rischiato Copritemi Uh, torretta B F Che succede qui? È raggiù Ho puntato Ho rischiato di nuovo Diamo un'occhiata in giro Vediamo se c'è qualcos'altro Uh, potenziamento Dati Munizioni Non me ne servono particolarmente Sto andando avanti solo con l'arco Cosa sto facendo? C Granato Chi è che ha eliminato la torrenta? Avanti Chi è che ha eliminato la torrenta? Addio Oddio È una zombie In realtà è ancora vivo Ma io dove devo andare? Ah, qua sopra Ah, vabbè Tanto vale Ripulire un po' la zona, no? No Evidentemente no Perfetto Li ho taggati tutti? Sì Non so dove andare Ah Potrei Potevo Che spreco Devo trovare un modo per salire Uè No Oh, le scale Ma queste sono quelle di prima Oh merda Ricarica Ah, l'ho trovato al piano giusto No Sono sempre uno sotto È una roba assurda Oh, ora sono al piano giusto Fuori uno Fuori due Merda L'ho mancato Fuori tre Fuori un po' la com'è che sto tizio ce ne sono voluti addirittura due di frecce devo andare lì munizioni, granate no mi tengo il typhoon